In questa breve guida vedremo come è possibile rimuovere lo sfondo da una foto reale o virtuale, quindi da un rendering 3D o da una fotografia che abbiamo fatto, in modo veloce, facile e gratuito utilizzando Creative Cloud. La prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è avere un account Adobe e dobbiamo avere ovviamente effettuato già l'accesso a Creative Cloud e come vedete il tool specifico che andremo a vedere qui all'interno della sezione azioni rapide è chiamato rimuovi sfondo. Se cercate download install Creative Cloud potete scaricare e installare appunto Creative Cloud all'interno del computer facendo un account Adobe che poi potrete utilizzare con qualsiasi programma e anche per esempio con Adobe Express o altri programmi diciamo che possono essere utilizzati in maniera anche gratuita. Quindi una volta scaricato installato entrate all'interno del programma, qui siamo nella home page, possiamo vedere un po' il riassunto di tutto quello che troviamo all'interno del nostro piano, in questo caso appunto azioni rapide qui in alto e poi abbiamo anche la possibilità di iniziare un progetto su Adobe Express, abbiamo dedicato anche altre guide appunto a Creative Cloud, Adobe Express, utilizzare l'intelligenza artificiale generativa con Adobe Firefly e poi vedere appunto quali altri applicazioni, programmi o funzioni abbiamo a disposizione. Per accedere alle funzioni rapide o azioni rapide possiamo anche andare qui in basso, vedete cliccando su azioni rapide e qui come vedete abbiamo diciamo quelle al momento disponibili ovvero la possibilità di rimuovere facilmente lo sfondo da un'immagine, quindi togliere soprattutto lo sfondo su un'immagine in primo piano e poi come vedete la possibilità di ridimensionare l'immagine, convertirla in GIF, convertire in mp4, tagliare un video, ridimensionare un video, unire un video e generare anche un QR code. Quello che faremo oggi è lavorare sull'immagine, qui potete andare anche vedete a selezionare per categoria, quindi categoria foto e clicchiamo quindi su rimuovi sfondo oppure ripeto dalla home page possiamo fare rimuovi sfondo. Una volta fatto questo dobbiamo cliccare o diciamo cliccare qui all'interno e navigare all'interno del computer per andare a prendere le nostre immagini oppure fare semplicemente un drag and drop, cioè un trascina e rilascia. Apro quindi una normale cartella di Windows e navigo all'interno di una cartella dove ho un'immagine che voglio utilizzare oppure posso andare a prendere un'immagine da internet come sappiamo. In questo caso vado all'interno appunto di una cartella per andare a prendere un'immagine in primo piano che non è un'immagine reale ma è un'immagine virtuale, quindi utilizzerò fondamentalmente un personaggio 3D e proverò la rimozione dello sfondo, vedete questo è il personaggio 3D e come vedete lo sfondo è molto simile all'immagine in primo piano, quindi sarà molto difficile per il programma andare a rimuovere lo sfondo però appunto in questo modo possiamo testarlo. Quindi clicco, trascino e rilascio all'interno dello specchietto qui in Creative Cloud, l'immagine è stata caricata, quindi adesso appunto come vedete in maniera molto rapida l'intelligenza artificiale, chiamiamola così, del programma è riuscita a rimuovere completamente lo sfondo senza doverlo fare appunto manualmente con bacchetta magica o lazzo o altri strumenti. Qui ci dice anche poi se vogliamo proseguire in Adobe Express per ulteriore modifica all'immagine e avete visto anche all'interno del canale pubblichiamo anche altre guide relative alla grafica e alla fotografia e anche delle guide dedicate ad Adobe Express oppure potete proseguire in Photoshop e rifinire così l'immagine o il ritaglio in maniera più professionale e anche qui trovate appunto il corso di Photoshop. Vedete qui un riassunto delle varie funzioni che possiamo poi utilizzare all'interno dei due programmi. Quindi possiamo proseguire in uno o nell'altro oppure andare a scaricare l'immagine direttamente in modo facile, veloce, semplice, gratuito all'interno della cartella dei download. Come vedete queste sono due immagini che ho scontornato utilizzando lo stesso metodo e se vado a vedere, se clicco con il destro del mouse e vado nelle proprietà posso vedere che questa è un'immagine PNG quindi automaticamente anche se io carico un'immagine JPEG o un altro formato, automaticamente viene convertita in PNG per sviluppare il canale alpha che è il canale della trasparenza. Ma se siete interessati appunto ad approfondire, vi suggerisco di andare a vedere le altre guide dedicate alla grafica che trovate nella playlist del canale oppure direttamente il corso di Photoshop o altri programmi simili come GIMP o Pixlr eccetera eccetera. Quindi andate a vedere nella sezione grafica del canale. Ci fermiamo qui, se vi è piaciuta la guida e volete rimanere aggiornati iscrivetevi, se volete ringraziarci abbonatevi al canale e ci vediamo nel prossimo video.